Buonasera, buongiorno. Sono bravissimo, sono espertissimo, sono un portento in verità. Siete tennate oppure dubitate, prima di scegliere, eccomi qua, la buona scelta. La buona scelta è un fatto principalmente istintivo, induttivo e tono-matopeico. Per fare una buona scelta bisogna essere un individuo equilibrato. E' un individuo equilibrato e sano di mente e di corpo, mensano e incorpore sano. Valete un esempio lampante, chiaroveggente, precursorio? Chi scegliereste come compagna della vostra vita? Questa, magnifica bionda, oppure questa bellissima bruna, o questa trecciona milionaria? No, questa me la scelgo e me la sposo io, alla grana! Ho, ho, ho! La scelgo e me la scelgo e me la scelgo. Facci picchia che scelto che ho fatto. Ah, scegliere bene non è per niente facile. Scegliere bene è semplicissimo, basta chiedere e cercare di sapere, non ignorare l'esperienza altrui. Da anni milioni di persone dimostrano di scegliere bene scegliendo falqui. Il confetto falqui regola l'organismo, non nuoce e non disturba. Il confetto falqui ha un dolce sapore di prugna. È veramente buono il confetto falqui, eh? Per dindirindini, fa bene i grandi e dai piccini. Provatelo!